varie delibere. Parte da Napoli la battaglia dei sindaci italiani contro l'accorpamento 4 dei comuni ideato nel 2010 dalla legge Calderoli e ora destinato ad entrare in vigore il 31 dicembre 2016 secondo l'ultima proroga del governo Renzi. A guidare la battaglia c'è Asmel, l'associazione italiana per la modernizzazione degli enti locali che unisce oltre 2200 enti locali di tutto il paese e li ha radunati a Napoli con il sostegno dell'AMPCI per siglare un manifesto di protesta. Ascoltiamo Francesco Pinto, segretario generale Asmel. L'esperienza dimostra che tutte le realizzazioni in termini di area vasta parliamo di comunità montane, parliamo degli ambiti territoriali ottimali, quelli che gestiscono l'acqua, sono stati sempre fonti di spreche, di inefficienza perché non c'era l'elezione diretta, non c'è il controllo sociale dei cittadini che scelgono e responsabilizzano il sindaco. Ecco allora che è nata l'idea di un manifesto contro l'accorpamento coatto per spiegare le ragioni economiche e politiche che porterebbero una riforma ideata per razionalizzare la spesa pubblica ad aggravare i bilanci dei nuovi soggetti nati dalle unioni coatte, soprattutto ora che in lanci ha rilanciato l'idea di accorpamento proponendoti ridurre gli 8000 comuni italiani in circa 1500 unioni. E dal forum Asmel è venuta fuori anche un'interessante proposta. Invece dell'accorpamento indiscriminato delle funzioni fondamentali dei comuni basato solo su ambiti geografici, il manifesto Asmel propone di definire i costi standard per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni. Ascoltiamo Franca Biglio, presidente Ampci, associazione dei piccoli comuni italiani. Noi non vogliamo cedere a nessun tipo di ricatto, però siamo disposti a raggiungere quegli obiettivi, già lo stiamo facendo, di efficacia, efficienza e economicità, in un modo molto democratico, e cioè gestire insieme i servizi là dove effettivamente si può raggiungere un risparmio e una maggiore efficienza. Come consuetudine dei forum Asmel c'era anche un'ampia area espositiva con stand per presentare le best practices nel settore dell'innovazione già affermate negli enti locali associati, gare telematiche della centrale di committenza, portale della trasparenza, fatturazione elettronica e utilizzo del software anticorruzione. Allora, questo per cui...